Ben ritrovati in un nuovo video, video Amazon, video acquisti Amazon, che tra l'altro manca un prodottino per l'uncinetto, ma è una cosa che non credo interessi. Se mi seguite anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, ogni tanto appunto mostro nelle storie il mio estro creativo dell'uncinetto. In questa serie devo dire che ci sto dando abbastanza dentro, anche se mi mancano alcune tips per migliorare, ma ci stiamo lavorando. Al di là di ciò, contro ogni previsione, e mi devo fare i complimenti, non ho preso nulla con i Prime Day, voi direte perché? Perché non ho preso nulla, appunto. Lo sapete che vado molto a sentimento, però ho preso qualcosa in offerta e ve lo volevo far vedere. Per la vacanza, che sarà in agosto, io ragazzi ve lo dico, oggi è il 24 di luglio, non so quando vedrete i vari video, perché voglio tenere il canale attivo anche in agosto. Vacanza, entro, esci, fai, disfa, però ci tengo e quindi sto programmando. A 7 euro è qualcosa in offerta, con aloe vera bio, Nivea San, dopo sole idratante, azione rinfrescante lenitiva, 48 ore di idratazione, con aloe vera bio e acido ialuronico, sollievo immediato. Per la vacanza ne ho una, che mi avevano dato in omaggio, porterò anche questa, perché staremo via due settimane, e il dopo sole è fondamentale. Era in offerta meno di 8 euro, l'ho voluta prendere. Nivea comunque rimane un grande must, ho approfittato dell'offerta, fatemi sapere se l'avete provata e nel caso che cosa ne pensate. Adesso non so se girerò il video del beauty della vacanza, non vi ho ancora detto dove andremo, eccetera. Vediamo, suspense. Dicevo che, non so se lo girerò o meno, però è un viaggio importante e voglio essere tutelata e tranquilla con tutte le mie cosucce, soprattutto la protezione dal sole. E quindi ho integrato con quella che ho, che mi sembrava un po' poca, credo che tutte e due le faremo fuori, e ho preso questa. Poi, per la sottoscritta, e magari anche Alessandro se non fa il monello, mi sono messa a cercare su Amazon, perché alcuni prezzi che ho visto mi sembravano allucinanti. Stavo prendendo una versione di Kerastase, ma non era in offerta. Io Kerastase me la concedo quando ci sono delle buone offerte. Siccome ero su Amazon, ho cominciato a cercucchiare, come dico io, e nella ricerca di un prodotto Sun Protection per i capelli, perché quest'anno estendiamo le attenzioni fino alla punta dei capelli, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. Comunque sono tendenzialmente, nell'ultimo medio-lungo periodo, come mi piace dire, sono molto attenta, ci mancherebbe altro. Però, vista la mia maniacale attenzione per i capelli, ho detto, quest'anno sarò ancora più brava. Mi sono messa a cercare su Amazon, ed era veramente ben recensito, costato 12 o 13 euro anche in offerta, ed era anche in offerta. Ho preso di Revlon Equave Sun Protection per l'esposizione solare dei capelli. Allora, ve lo leggo in italiano. È sigillato e ho intenzione di lasciarlo sigillato fino alla vacanza. Balsamo. Professionale districante bifasico per capelli esposti al sole. Agitare per attivare la nostra formula di protezione Kinetic Technology, adoppiazione, condizionamento istantaneo e protezione dai raggi solari. Applicare sui capelli umidi o asciutti, pettinare, non risciacquare. Sun Protection per i capelli, prezzo giusto per, aspettatene, per, per, 100 ml, sì, 100 ml. E anche i miei capelli cionpi avranno la protezione in vacanza. Revlon è un brand che conosco ma che non ho esplorato più di tanto, però su Amazon era ben recensito, va agitato, lo userò. E ne parleremo, quindi pian piano si cerca sempre di migliorare nella protezione dai raggi solari, che è bello essere un po' colorate, ma bisogna anche proteggersi in maniera adeguata per prevenzione. Bene, questo. Fatemi sapere magari se vi può interessare il beauty della vacanza, eccetera. Ora ripeto, siccome ho un po' di video programmati, non so quando vedrete questo video, però i feedback sono sempre interessanti. Se magari non lo faccio prima, lo posso fare a ritorno. Vediamo. Poi, in super mega offerta, a 10 euro, e l'ho consegnato prima che sono uscita da lavoro e sono andata da mia mamma, gliel'ho consegnato. Ne ho presi due. Ne ho presi due perché costavano 10 euro. E uno, appunto, l'ho preso per lei. 02 Dore. C'era quello molto chiaro che non mi son fidata perché avevo paura che sostanzialmente non si vedeva nulla sul mio viso. E ho preso la versione Dore 02, SPF 50+, pelli sensibili, Naked Tested, testato contro i 5 metalli pesanti, protezione molto alta, crema compatta uniformante. Ve lo dico sinceramente, ragazzi, l'ho preso perché era in offerta a 10 euro. Questo è un prodotto che l'ho visto a 25 e quindi, francamente, a 10 euro non ho pensato due volte a prenderlo e, appunto, l'ho voluto prendere anche per mia mamma. Se mi seguite da diverso tempo, sapete che io ho provato quello di Collistar, ho provato quello di Shiseido, non riesco mai a dirlo. E nel corso del tempo ho cambiato un po' le varie protezioni, ma, francamente, complice anche l'offerta. Ho voluto prendere questa protezione 50+, magari me la porto anche in vacanza alla sera per avere un trucco un po' più carino, però sempre con protezione, eccetera. O durante il giorno, perché comunque non sarà una vacanza solo di mare e, magari per essere carina, ma senza trucco che si scioglie, questo, diciamo, che corre un po' in nostro aiuto. Era tanto che non utilizzavo un prodotto di questo tipo, però, visto la super mega offerta di Rila Steel, ho voluto approfittarne. E so perfettamente che lo utilizzerò stravolentieri e, appunto, l'ho preso anche per mia mamma. E ho preso, appunto, questo qui. Fatemi sapere se avete provato questa versione di Rila Steel, appunto, ripeto, se mi seguite sapete che avevo provato i fratellini di altri brand. Adesso vediamo se cominciare ad utilizzarlo subito o meno. Poi, sempre per la vacanza, ho trovato in offerta su Amazon due prodotti per l'igiene intima. Ma ci sono dei video sul canale, nel corso del tempo ne abbiamo parlato, sapete perfettamente diversi i miei punti di vista. Soprattutto con il caldo, noi donzelle o, in generale, comunque, si soffre di più di determinate problematiche dell'igiene intima. E quindi io non mi posso permettere di sbagliare da questo punto di vista. Allora, cercavo il Meclon, che vi faccio vedere più e più volte nei Finiti Beauty. Adesso è un periodo tranquillino, ma non vorrei tirarmela, per determinate problematiche. Però, in generale, a casa sempre. Ma soprattutto, quando vado via, io devo essere tranquilla. Perché la volta che io non avevo le medicine, le mie cose, è stato un delirio. Poi spiegare in farmacia, eccetera. Quindi, l'esperienza insegna. E, in vacanza, a maggior ragione, se si va all'estero, io voglio stare tranquilla. Che se appena ho un accenno di cistite, varie problematiche, subito. Ovviamente, devo avere un detergente intimo apposta. Per quanto cerco sempre, nel beauty della vacanza, di avere un prodotto che va bene. Tipo il Saugella, il Dermogella, che va bene per tutto e per tutti. Però, se appena posso, separo comunque la zona intima. Per quanto Dermogella e Saugella siano prodotti già testati e che van bene. Sono talmente... che preferisco separare le cose. L'ho trovato in offerta, perché c'era 10-11 euro. Tendenzialmente questi sono prodotti che costano qualcosina in più. Non ho trovato in offerta il McLone. Quindi, partiamo da questo. Il McLone, quello che vi faccio vedere, le monodosi con acido ialuronico a livello spinoso per aiutare nella cistite, vaginite, irritazioni, eccetera. Ho preso il fratellino della Gino Canes Balance, vaginosi batterica, gel vaginale. Clinicamente testato per trattare i sintomi della vaginosi batterica, ripristinando l'equilibrio del pH. Agisce in modo naturale insieme al tuo corpo. È la stessa versione del McLone. Questo lo utilizzerò appunto in vacanza. Cioè, spero di non utilizzarlo, però questo viene in vacanza. Sono sette applicazioni. E a me, in determinati momenti, aiutano molto. Perché spesso magari si confonde la cistite con la vaginite, l'irritazione, prurito, eccetera. E quindi, avendo trovato questo in offerta ad un prezzo decente, questo andrà direttamente nel beauty. Io ho l'ultima confezione, questo qui, che avevo trovato in super mega offerta. Ho dentro gli ultimi due. Questo qui su Amazon costava troppo. Non avevo voglia di fare assolutamente altri ordini. Ma anche questo è molto, molto valido. Idratante vaginale, mulgel, appunto, acido ialuronico, livello spinoso e aloe vera. Azione idratante lenitiva nel trattamento sintomatico di secchezza, atrofia vaginale, vaginite, cistite, bla bla bla. Ovviamente parliamo di problematiche gestibili con questi farmaci, integratori, prodotti specifici. Per determinate problematiche gravi, e l'ho avuta, c'è l'antibiotico, si va dal medico, eccetera. Ci sono due cose diverse. Però questo, diciamo che in determinate problematiche, aiuta. Però, avendo trovato questa versione, provo quest'altro brand. Spero di non doverlo utilizzare, e lo tengo di emergenza. Poi, comunque, ciclicamente, ahimè, ci casco. Quindi, comunque, non è che non si usano. E questi, essendo due, comunque, non bastavano. E, ripeto, su Amazon non era assolutamente in offerta. Poi, c'era, sapete che poi Amazon ti dà la possibilità, aggiungi questo con un prezzo un po' più inferiore. Ho preso, igiene intima, cosmetic lenitivo, detergente intimo, sempre di Gino Canesten, insieme. Questo qui. E questo è un po' grossetto. Vediamo se, è vero che starò via due settimane, però, vediamo. Detergente intimo, aiuta a donare sollievo alle parti intime e sensibili soggetti ad irritazione, con glicina. Offre una piacevole sensazione di freschezza, comfort per 12 ore. Contiene glicina, nota per le sue proprietà calmanti, senza saponi e coloranti, della Bayer. Allora, è grande, però è anche vero che stando via due settimane, non facendo solo mare, voglio star tranquilla per lavaggi cose. Magari io, poi, sudando anche molto, lavaggi così colà, mi sa che questo lo porto tutto e non lo trasferisco. E così sono tranquilla. Poi ci sarà il Dermogella, che va bene per tutto, cercando un po' di essere il più minimalisti possibili, ma per queste cose in viaggio io non riesco ad essere minimalista, sono onesta. A maggior ragione, ma non a maggior ragione, proprio perché ho fatto determinati errori che mi hanno insegnato a non esserlo più, perché poi se si sta male in vacanza, cioè, io divento più isterica di quella che già sono, il che non va bene. Poi ho preso, da viaggio, confesso, pensavo fosse più piccola, un contenitore per le pastiglie, per le medicine, eccetera. Voi potreste dirmi, mamma mia, ma dove vai? Vado all'estero. E pensavo fosse più piccola, pensavo fosse più piccola, però 20 centimetri sostanzialmente, se non la si riempie tutta comunque si può schiacciare letteralmente, non più di tanto, perché ci stanno tachipirina, varie cosucce. È impermeabile, quindi si protegge un po' freschetto, sta tutto un po' più fresco e 12 euro credo di averla pagata su Amazon, ben recensita, ma francamente pensavo fosse un pochettino più piccolina, però ce la facciamo andare bene per questa cosa. Poi si può chiaramente riutilizzare per le medicine. Poi mi sono presa un libro, sì, contro ogni previsione, mi è stato consigliato questo libro che ho già cominciato a leggere, non c'entra nulla con tutto quello che vi ho fatto vedere, però ho già letto 5 capitoletti, Gianluca Gotto, succede sempre qualcosa di meraviglioso, mi è stato consigliato e mi piace. Già all'inizio mi piace, io sono una persona che legge poco, me ha colpa, lo ammetto, però quando trovo qualcosa che mi piace lo leggo fino in fondo e qui ci sono degli spunti che a pratti sottolineo anche e poi magari ne parliamo. Fatemi sapere se vi potrà interessare una mia opinione a riguardo, perché tra l'altro è super recensito, super consigliato e ho voluto prenderlo, appunto l'ho trovato su Amazon e lo sto leggendo e ne parleremo poi, mentre fatemi sapere se vi può interessare. Nulla, questo è stato uno shoppingettino utile su Amazon per tutti i motivi che vi ho detto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo alla prossima, ciao!